Raffaello Ciupi, parata importante, partita importante, il risultato ci ha castigato però sinceramente quando si inizia sapendo che vale poco probabilmente manca anche un po' di concentrazione. Sì, sicuramente sarà stato un po' anche quello ma i ragazzi hanno lottato tutto e tutto per tutto quindi su questo non ho dubbi quindi abbiamo lottato fino in fondo. Per me è una grande emozione esordire in questa squadra, in questa pista con queste ragazze a cui sono molto legato e che mi hanno accolto come un fratello nonostante io sia nuovo e questo qui sia un mondo quasi strano per me. Quattro a uno perciò quattro ore di subite io in cronaca l'ho definito abbastanza anomale perché al di là della prima poi un rimpallo, un rimbalzo, insomma è successo un po' di tutto. Quanto è frustrante vederla entrare in quella maniera lì? È molto frustrante, specialmente quando vedi che i tuoi compagni lottano e soffrono in pista, te sei lì in porta che puoi fare del tuo ma fino a un certo punto vedere che quando la palla entra è sempre una frustrazione. Però io penso di aver dato il massimo come sempre e ho poco da recriminarmi nel senso che devo allenarmi molto, devo ancora continuare a spingere in allenamento, andare ancora di più per dimostrare anche la mia squadra e dare la sicurezza alla squadra che magari stasera in alcune occasioni non hanno avuto nei miei confronti ma spero di continuare così e non fermarmi.